Secondo anno consecutivo ci troviamo a Badia Ruoti in Val d'Ambra con padre Rinaldo Paganelli. Che cosa è stato fatto in questa giornata a Badia Ruoti? Abbiamo ripreso in mano un po' il progetto pastorale dello scorso anno, l'abbiamo rivisitato cercando di mettere in evidenza soprattutto le cose positive che si sono realizzate, si sono concretizzate e a partire da lì ci si è orientati per riprogettare un nuovo anno pastorale cercando di individuare anche delle nuove modalità o nuovi progetti che possono essere applicati dentro i diversi ambiti degli uffici di Curia. Quali sono gli elementi a suo modo di vedere sui quali la chiesa retina cortonese Biturgenze dovrebbe lavorare di più? La sfida più importante è proprio la collaborazione tra gli uffici, la capacità di mettere in rete le diverse competenze alcuni uffici hanno magari più presenze, anche più personale preparato però questo non vuol dire che debbano chiudersi al loro interno ma devono avere proprio l'occhio attento a prestare la loro competenza perché anche gli altri riescano a diventare così efficaci ed efficienti dentro una realtà che chiede sempre di essere un po' nuovi dentro questo cambiamento anche della nostra realtà sociale. Da formare i formatori un nuovo tema che però è in continuità con quello dell'anno scorso? Il fine del formare i formatori è creare dei cristiani maturi che siano capaci di testimoniare umanità. Questo è il primo tempo, definiamolo così, ci sarà un secondo tempo prima dell'inizio dell'autunno? Sarà sicuramente un metodo sinodale di ascoltare tutti, di promuovere ciò che è possibile e di decidere tutti insieme.